come la sai la risposta maria grazia maria grazia e limoni no, che non vola questa scala c'è nel senso la casa qui sotto della casa della casa come la sai la risposta Maria Grazia Maria Grazia e Limoni Maria Grazia guardando Alex guardando questa scala c'è la casa qui sotto è la casa è la casa è la casa come la sai la risposta Maria Grazia Maria Grazia e Limoni Maria Grazia guardando Alex guardando spero che non vola questa scala c'è la casa qui sotto è la casa come la sai la risposta Maria Grazia Maria Grazia e Limoni Maria Grazia guardando Alex guardando ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera Euforbini, come state? Buonasera, buon giovedì, buon proseguimento di settimana. Siamo nuovamente insieme. Ciao Emiliano, ciao Charlie Brown, oppure ciao Sorro, anche se state là, però io saluto, mi sembra giusto, insomma. Allora ragazzi, come state? Come sta proseguendo questa settimana? Spero bene. Cominciano ad arrivare un po' le prime frescure, quindi forse il caldo ci sta abbandonando. Chi può dirlo? Staremo a vedere. Ciao Antopolli! Allora ragazzi, allora, anche questa sera, allora faccio una piccola premessa. Sarà una live un pochino più breve, però più intensa, ok? Quindi non porteremo la live fino a tardi come normalmente facciamo il giovedì. Voglio dare più spazio a questo progetto che ovviamente i miei compagni di viaggio, le mie spalle, perché sono loro che ovviamente mi sostengono anche nei progetti e soprattutto hanno delle idee meravigliose. Voglio dare più spazio a loro, perché ovviamente hanno creato questa cosa che è meravigliosa. Ieri avete visto, c'è stato Marco, c'è stato il professor Marco con storia di The Sims e oggi, come vedete, abbiamo sempre The Sims Academy. Oggi, 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 oggi parliamo di un altro argomento molto importante, cioè parliamo di stylist. In questo caso abbiamo l'introduzione al CAS con la professoressa Nicole, quindi farei un grande applauso e benvenuta! Buonasera, buonasera a tutti, ciao, come state? Tutto bene? Bene, tu come stai? Tutto bene, grazie, tutto bene. Tu che sei studentessa, universitaria, trovarti dalla parte invece del professore, come ti trovi? Eh, si sente un po' di ansiettina da banco, però tutto bene, tutto bene. Dai, un grande applauso di incoraggiamento, innanzitutto salutiamo anche Martina che è con noi e anche Eleonora. Ricordo, ragazzi, mi raccomando, scrivete presente, così segniamo chi è con noi, perché fra sette settimane ci sono gli esami, giusto, Niki? Esatto, esatto. Quindi poi bisogna anche prenotarsi per gli esami e quindi, ovviamente, mi raccomando, arrivano i voti e poi arriverà il diploma, ragazzi. Quindi, mi raccomando, se siete interessati e se volete ricevere il diploma, ovviamente, dovete fare attenzione alle lezioni, dovete essere presenti. Ciao, Fatima! Dovete essere presenti, dovete studiare, mi raccomando, e poi fare gli esami. Vi prenoterete per fare gli esami, vi verrà detto cosa dovrete fare negli esami e quindi, poi ci sarà, daremo i voti e faremo proprio la cerimonia come in America, no? Poi lanceremo il cappello, eh? Faremo in questo modo, insomma, proprio come all'università. Allora, io dico, tu sei pronta? Io sono pronta. Prontissima. Voi siete pronti? Voi siete carichi, siete caldi, ragazzi, siete pronti, anche con carta e penna per prendere gli appunti, spero di sì. Allora, ragazzi, 3, 2, 3, 2, 1, faccio sempre 2, 2, 3, 2, 1, andrei in direttamente Sims Academy, quindi poi vedremo ovviamente le schermate delle slide che ha preparato la professoressa Nicole. Andiamo innanzitutto nella schermata principale. Eccoci qui, eccoci qui, siamo nella schermata principale, questa è la prima dispensa. Nicole, ricordami, poi dopo queste dispense, per chi vuole, le può anche avere in formato pdf che addirittura possono essere stampate, quindi anche per tenersele, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, ragazzi, quindi io adesso mi smuto, dico solo un'ultima cosa, cioè vediamo quelle, le prime 3-4 slide, poi se ci sono delle domande, dubbi, incertezze o perplessità, fate le domande perché poi la nostra prof Nico risponderà. E allora, cedo volentieri a te la parola, vai Nico! Sì, allora, innanzitutto benvenuti, benvenuti a tutti in questo primo corso di styling. Io diciamo che vi ho creato una dispensa illustrativa, abbastanza, insomma, facile da utilizzare e quindi passerei un po' a introdurre quello che ho pensato di portarvi in questo, diciamo, corso extra. Allora, innanzitutto vorrei raccontarvi un po' cosa volevo offrirvi, no? Nel senso, entriamo un po' più nella soggettività di questa cosa e conoscendoci e affrontando un po' cosa ci piace, cosa non ci piace. Io vi posso raccontare che ho iniziato appunto a giocare a The Sims quando ero veramente piccolina, appunto avevo 7-8 anni all'incirca e sono sempre stata follemente innamorata della modalità del CAS, quindi mi piaceva tantissimo creare i sim e appunto per questo motivo io con questo corso vorrei offrirvi lo stesso entusiasmo che provavo io da bambina e anche la stessa voglia anche di magari mettervi alla prova appunto creando un sim e vedendo un po' cosa esce fuori, cioè quanta soggettività ci sarà all'interno della creazione di questi sim o di queste famiglie e ovviamente le parole chiavi sono diverse nel senso quello che vorrei che uscisse è appunto questa soggettività che magari ognuno di noi ha e anche questo approccio appunto nella creazione delle personalità dei nostri sim e ovviamente la cosa che mi preme è sottolineare che non esistono gli errori o meglio se esistono vengono comunque premiati poiché appunto è da essi che si impara a diciamo a perfezionare nel senso a sapere un po' cosa modificare, cosa migliorare quindi benvengano gli errori, benvengano sempre e quindi che dire ragazzi, questo corso ovviamente è del tutto soggettivo e vorrei proprio che fosse personale per ciascuno di voi senza pressioni o altre cose e io ho scritto appunto tre parole chiave che vorrei appunto citare la prima è divertimento, entusiasmo e originalità quindi se siete d'accordo con me possiamo iniziare così sono belle, mi piacciono, mi piacciono assolutamente io concordo, sposo in pieno spero anche tutti i ragazzi che ci stanno seguendo esatto, spero anch'io vivamente soprattutto la soggettività perché comunque quando si crea un sim ciascuno di voi ci deve mettere il proprio nel senso non esiste un sim perfetto cioè non c'è, nella logica proprio non c'è e quindi viva la personalità assolutamente, sempre che poi magari a volte rispecchia anche un po' la nostra a volte facciamo dei sim forse anche inconsciamente rispecchiando un po' quello che vogliamo, vorremmo essere noi o che siamo noi quindi c'è anche questo da dire esatto, esatto e poi ovviamente cioè non vedo l'ora di vedere cosa ne esce fuori cioè questo sicuramente non vedo l'ora aspettiamo poi gli esami esatto ecco a proposito a proposito di esami mettiamo un po' di pressions allora vediamo un po' io stavo pensando tra la mia mente artistica e abbastanza libertina oggi di strutturare l'esame almeno per quanto riguarda il mio corso in due modalità sì e poi ovviamente mi dite insomma anche in chat ci dite se vi può interessare se magari non so vi può piacere come cosa ok e allora io pensavo di fare una parte scritta composta da magari dei quiz a domande insomma domande o aperte o a domande insomma da crocettare e una parte comunque di styling vero e proprio quindi nella creazione di un sim self ah ok bello mi piace sì 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 cioè così è la famosa prova scritta e invece che se c'è la prova orale insomma c'è quella pratica ecco sì mi piace mi piace sì sì approvo io approvo in pieno però mi possa essere va bene allora niente io passerei direttamente la seconda slide assolutamente ok la gestione è tutta tua perfetto allora innanzitutto niente io la dispensa l'ho strutturata un po' alla The Sims quindi è molto molto semplice molto un po' iconica sì e in questa prima lezione introduciamo il CAS perfetto ok bene passiamo oltre allora ovviamente magari vi dirò delle cose che sono già state dette che già sapete però comunque un po' di teoria non fa mai male per chi magari noi diamo per scontato che molti lo sappiano invece poi magari c'è chi non è proprio pratico pratico no e quindi comunque sempre poi meglio fare una rinfrescata che male non fa esatto esatto e allora innanzitutto ci tengo a precisare che le cose non me le sono inventate ci sono le fonti quindi io ho fatto un po' una ricerca da Sims World in tutti i vari siti dove troviamo tutte le fonti per insomma consultarci quindi diciamo che ve le riporto in maniera riassuntiva anche per aiutarvi al meglio in questo in questo corso diciamo allora quindi niente introduciamo il CAS allora io vi ho messo un'immagine che adesso andremo un attimo ad analizzare allora allora diciamo che devi cambiare la slide sì l'ho già cambiata ah no perché è rimasta la stessa ah infatti ho visto sono a 1.1 CAS & Co eh perché non cambia non cambia ah no ah 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 e se tipo ci clicchi sopra all'altra no ho una domanda Niki sei in modalità presentazione sì eh non si vede se stai in modalità presentazione non si vede adesso è cambiata adesso è cambiata allora ok allora sì perché avevo lo schermo intero quindi può darsi che ci siano dei problemi ok ok perfetto 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 adesso è cambiata adesso è cambiata allora io la tengo così e poi cambio quando quelle di prima le avete viste le no allora aspetta torniamo all'origine questa è la prima ok perfetto allora adesso cosa vedi ok questa è la prima ok perfetto questa è dove c'è la presentazione un po' del corso quella che vi ho accennato prima quella appunto che dicevamo divertimento entusiasmo e originalità esatto assolutamente importante imparare dai nostri errori poi c'è argomenti trattati lezione numero uno introduzione al CAS perfetto e introduzione al CAS quello che vi dicevo prima no delle fonti che sono andata a ricercare un po' le cose poi ci fermiamo qui qui adesso siamo proprio in linea perfetto ottimo 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 grande perfetto allora diciamo che tutti conoscete magari la modalità del crea un sim quindi nel senso il CAS quello che è appunto il CAS posso solo un secondo Niki scusami al volo perdonami se ti interrogo rispondo soltanto un attimo Eleonora guarda io comprendo allora tu qui dici io non ho potuto partecipare a queste elezioni perché non posso dedicare il tempo che merita però se vuoi abbiamo deciso di farle proprio qui in su su Twitch perché così proprio per chi magari non ha potuto guardarle in diciamo in diretta puoi eventualmente recuperarle le abbiamo qui direttamente su su Twitch poi le cariceremo anche su YouTube quindi insomma se ti fa piacere perché magari se tu hai voglia anche di partecipare agli esami io adesso lo dico a Ele ma ovviamente vale per tutti quanti ragazzi quindi se per caso vi siete persi qualche altra lezione siccome non è che ci sarà l'ultima lezione il giorno dopo gli esami io immagino passerà magari una settimana in modo che daremo tempo a tutti quanti per fare anche magari le loro piccole prove le loro piccole cose e poi daremo la data degli esami ok io immagino verrà verrà impostata in questo modo non so se Emiliano o Alessandra mi possono confermare questo però immagino che insomma non sarà ultima lezione boh giorno dopo esami no? no 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 un pochino di tempo passa ecco ok perfetto quindi comunque ragazzi avete modo per poter eventualmente recuperare le live e quindi se vi siete persi qualche lezione potete tranquillamente studiare se non avete scuse potete studiare quindi ecco insomma io ovviamente scherzo ragazzi quindi però se vi fa piacere magari partecipare anche per ricevere appunto il diploma l'attestato e tutto quanto insomma sappiate che di tempo ce n'è ecco scusa nighi se ho un attimo ti perdono ho preso un attimo questo tempo però ti perdono preside la perdono ho detto io sono silente faccio il discorso iniziale poi una mazza tutto il resto dell'anno esatto se tu sei silente io sono peaton però no la giochiamo bene questa cosa adoro ti adoro allora allora niente tutti sapete che cos'è il CAS il CAS deriva da create a sim e in italiano crea appunto un sim ed è che cos'è il primo step quindi il primo passo per la creazione dei nostri sim o delle nostre famiglie ovviamente sappiamo tutti che il gioco si aggiorna in maniera comunque ripetitiva tra vari bug e quant'altro quindi ci sono vari aggiornamenti no e tra uno di questi uno di questi molto importante è stata appunto la modalità di creazione dei sim che ha subito un aggiornamento importante ovvero l'aggiunta della modalità storia questa questa particolare modalità ci appare quando entriamo quindi nel CAS ed entriamo creare un sim no e viene vista tramite appunto questa finestrina che chiederà al giocatore quindi a noi se vogliamo iniziare questo processo di creazione guidata oppure se optare appunto per una modalità comunque molto più classica quindi diciamo quella tradizionale della creazione dei sim quindi senza modalità storia perfetto e con questa prima opzione se noi appunto scegliamo questa prima possibilità mettiamola così cosa succede che ci verranno poste una serie di domande domande comunque molto semplici e anche interessanti perché io solitamente quando creo un sim non ci ho fatto molto testo a rispondere a questi quesiti diciamo sono andata subito di getto nella creazione del sim ma mi sono resa conto che utilizzando questo tipo di modalità diciamo che il nostro personaggio assume un valore magari più intrinseco e più importante no poiché in base alle nostre risposte il gioco assegnerà al nostro sim e quindi al nostro personaggio un aspetto ma anche magari una personalità maggiormente in linea con le risposte che noi abbiamo dato ma è bello questo è bello interessante perché poi magari le domande sono sempre le stesse esatto le domande no cambiano infatti adesso slitto alla prossima slide perfetto allora ovviamente la prima domanda che il gioco ci pone riguarda la fascia d'età e diciamo diciamo le successive adesso io ne ho trovate nove però magari possono essere anche di più tipo una decina adesso precisamente non stiamo a badare i numeri però una serie di domande mettiamola così sono sono magari più incentrate appunto sulla modalità vivi di cui si occupa il mio collega e socio Emiliano dello storytelling e appunto le domande possono essere diverse ovviamente se avete magari più espansioni più game pack ci saranno comunque delle domande magari un pelino più mirate no? quindi più sullo specifico oltre che quelle del gioco base mettiamola così e appunto io vi ho messo le due le due immagini quindi la prima che praticamente ci dice ciao ti piacerebbe creare la mia storia poi ovviamente voi potete scegliere va bene quindi continuate nella modalità storia oppure no grazie e slittiamo quindi alla modalità normale tra virgolette della creazione del sim e poi sulla destra abbiamo appunto iniziamo con una domanda semplice qual è la mia età quindi torniamo al discorso delle fasce d'età e qui possiamo scegliere semplicemente giovane adulto adulto o anziano queste sono le tre fasce d'età che il gioco ci pone come scelta mettiamola così domanda visto che adesso abbiamo già visto un pochino magari la faccio io sempre per poi spronare chi è in chat se avete appunto sempre dubbi incertezze o perplessità è certo tu hai appena detto che ti domanda quale fascia d'età giovane adulto adulto o anziano e come mai non ti permette di selezionare cioè tra le fasce di età magari bambino oppure neonato eccetera eccetera ok io ti rispondo di getto nel senso secondo il mio parere soggettivo della cosa allora secondo me non ci permette di scegliere come fascia d'età bebè bambino e via dicendo proprio perché magari i caratteri che sono associati al bebè al bambino sono comunque minimi nel senso che se ben ricordo possiamo selezionare un tratto solo per i bebè diverso per i bambini magari due penso se non erro però io sarei contenta se aggiungessero almeno gli adolescenti magari no così per per chissà magari forse poi quindi comunque se uno vuole fare un bebè o un bambino deve necessariamente rispondere no grazie e allora lì si riporta nella schermata che dove tu scegli proprio le fasce le fasce di interesse come età no esatto sì anche perché per fare i bebè i bambini per forza di cose bisogna creare appunto una famiglia almeno composta da un componente o un parente non per forza un genitore ecco e comunque questa modalità secondo me è molto interessante perché magari che ne so per creare un sim molte volte leggo commenti del tipo non ho ispirazione e io penso ok molte volte capita anche a me perché magari cioè o vengono dei sim spesso almeno per mia esperienza personale a volte simili tra loro quindi dico cavolo la modalità storia quindi in questo senso mi potrebbe aiutare per differenziare i sim che io di solito faccio o la persona di solito fa quindi una cosa molto interessante ecco che ho rivalutato certo no beh assolutamente è un argomento molto valido questo proprio perché comunque come hai detto tu ci permette un attimo di uscire da quel loop di oddio che faccio oddio non ho ispirazione non mi viene in mente nulla assolutamente quindi no ottimo ottimo anche peraltro come consiglio per chi appunto magari si approccia anche per le prime volte al gioco e quindi non sa come gestire bene i tratti più che altro no magari sì 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 infatti lo consiglio come appunto come hai detto te Fede per per approcciarsi alla creazione appunto del cast dei sim e delle famiglie perché ne vale la pena nel senso che magari di prima vista uno dice vabbè ma devo stare qui a rispondere a tutte le domande poi però le domande a cui noi rispondiamo rispecchiano poi alla fine i tratti che usciranno quindi insomma poi magari se capitano non dico le stesse però magari nello stesso ordine magari in ordini diverse però notiamo che la domanda fondamentalmente è sempre la stessa che può apparire prima piuttosto che dopo in mezzo insomma una serie di quesiti uno si può anche divertire a se la prima volta ho risposto a una domanda sì magari la volta dopo rispondo no vediamo cosa esce fuori no ci si diverte anche in questo sì 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 no assolutamente infatti io promuovo questa modalità storia ecco veramente come per iniziare ci sta assolutamente assolutamente bene e passerei appunto alla prossima slide perfetto allora io qui vi ho proposto diciamo tre domande che mi sono uscite durante appunto la creazione di un sim e sono diciamo quelle tre che mi ispiravano di più quindi la prima è è arrivato il fine settimana e non ho niente da fare puntini 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 e le tre opzioni che ci dà il gioco sono invito degli amici da me è la prima la seconda vado al parco oppure resto a casa e mi rilascio non faccio niente ecco allora io qui ho risposto invito degli amici da me un po' in base anche alla mia persona perché sinceramente avrei fatto così anch'io quindi ok e poi la seconda è le storie migliori sono al lieto fine oppure sono quelle con i colpi di scena oppure ancora sono scritte da me quindi io ho fatto tutto soggettivamente appunto per farvi vedere cosa poi sarebbe uscito fuori certo e ho risposto sono quelle con i colpi di scena le migliori assolutamente comunque e passiamo alla terza domanda che chiede qualcuno mi ha chiesto di uscire insieme cosa rispondo allora il gioco qui propone esco potrebbe essere divertente chiedo chi altro gli piaccia rifiuto gentilmente perfetto e qui ho risposto alla prima quindi esco potrebbe essere divertente perché nella vita why not quindi ci poteva stare assolutamente assolutamente un cordo in pieno esatto tentare non nuoce no? come si può dire esatto esatto e ne usare infatti comunque e allora successivamente cosa succede? che il gioco in base alle nostre risposte ci dà l'aspirazione e i tratti che noi comunque in base alle risposte che abbiamo dato ha deciso ha deciso di stabilirci quindi è uscito come aspirazione romantico seriale quindi cioè meglio di così non poteva andare proprio questo questo tuo sim che hai diciamo creato sarebbe stato un romantico seriale adoro adoro assolutamente poi come tratti come possiamo vedere è uscito appunto romantico buono e ordinato quindi insomma diciamo che in base alle risposte ci poteva stare vedi senti leggo una domanda di Charlie Brown che fa c'è una modalità da mettere per fare la storia del sim perché oggi ho creato un sim ma non è uscito di creare la storia allora solitamente io la utilizzo quando diciamo creo una nuova partita oppure non ricordo bene ci devo guardare quando vado a creare una nuova famiglia e scelgo magari un lotto casuale non so se esca io penso che esca solamente quando creo una nuova partita quindi ve lo confermo ve lo confermo infatti anche io ti stavo per dire perché anche io ho notato questa cosa se apri una nuova partita ti compare anche proprio l'immagine tipo solo la sagoma del sim e poi ti chiede se vuoi appunto creare o meno la storia e a quel punto vai avanti mentre se io mettiamo il caso già una partita vado su un lotto per esempio o un lotto vuoto dove c'è già una casa o quello che sia e vado nel crea un sim compare subito il sim generato così a caso ok questo l'ho notato effettivamente anche io quindi credo penso appunto che si faccia solo ed esclusivamente con una nuova una nuova partita Martina diceva si c'è il pulsante anche quando fai nuovi sim tra i vari sim che può fare occulti cani gatti eccetera puoi aggiungare un sim la storia ah ok allora evidentemente c'è proprio una sezione dedicata ciao Tattino ciao benvenuto dopo comunque insomma adesso era un'infarinatura generale poi quando andremo appunto nel cast quindi in gioco e vedremo comunque tutte le varie opzioni insomma quelle che abbiamo già accennato poi ne vedremo altre perché dopo insomma arriverò ricordiamo ricordiamo che questa è la prima di una serie di lezioni che che comunque serviranno per poter poi arrivare al giorno degli esami preparati tranquilli senza stress esatto per una volta non so io sotto esame no infatti sono io sotto esame stasera ve lo dico no perché bene però dai ragazzi sta andando benissimo quindi io faccio un applauso a Nicole perché sta veramente andando bene 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 complimenti grazie no merito vostro che mi seguite ci seguite come sempre insomma la nostra bellissima community e questo è l'importante vedi Eleonora infatti conferma Iri guarda purtroppo grazie per aver messo il sound a letto però non si sente perché li abbiamo momentaneamente disattivati perché appunto per la per questa serata essendoci il The Sims Academy vogliamo che sia insomma più più incentrata appunto sulla lezione che sta facendo la prof niki la prof niki bella prof ci tengo a precisare allora innanzitutto vi ringrazio a tutti veramente ragazzi di cuore e soprattutto Eleonora che mi ha scritto appunto in chat che sono bravissima quindi per me è un complimento nel senso grazie veramente brava brava ci mettiamo sempre tantissimo impegno quindi per noi è un grande passo e questo è il risultato insomma il risultato di tanto lavoro bene bene allora passiamo direi all'ottava slide allora ok bene 1.2 esatto in questo punto 1.2 parleremo di aspirazioni e tratti allora ci tenevo un po' a mettervi anche il significato di aspirazione no perché magari uno dice vabbè si aspirazione ne scelgo una caso poi la faccio relativamente ma che cos'è l'aspirazione ce l'abbiamo tutti quindi di conseguenza essendo The Sims un gioco di simulazione ce lo devono avere anche loro quindi andiamo a vedere che cos'è l'aspirazione è un desiderio di raggiungere una meta io ho messo anche uno scopo oppure anche un obiettivo perché no e vi ho messo appunto la foto delle varie aspirazioni e possiamo dire che attraverso la creazione dei sim ci sono come possiamo vedere una serie di diverse aspirazioni da poter scegliere ovviamente ognuna di esse porterà con sé un tratto bonus che man mano adesso poi questo non è mio campo quindi parlerà Emiliano di questa cosa lo svilupperete per lo più nel gameplay quindi io mi affido solamente a parlarvi di quello presente nel CAS per ciò che mi riguarda di quello che dobbiamo scegliere per crearlo perché poi comunque viene richiesto non è che puoi lasciarlo così lo devi mettere per forza per poter andare avanti ok perfetto ovviamente le aspirazioni si possono cambiare quindi man mano man mano si finirà di raggiungere insomma l'obiettivo possono cambiare tranquillità e dopo appunto la scelta dell'aspirazione del nostro slim in base a tutto quello che ne viene possiamo passare alla scelta dei tratti perfetto allora i tratti personalmente secondo me è una caratteristica che per chi crea i sim in generale ma anche per chi si affaccia appunto anche al gameplay quindi mettendo insieme le due cose è una scelta abbastanza importante perché in base a quello diciamo i sim saranno tutti diversi tra loro quindi venga premiata di nuovo ancora l'originalità certo assolutamente e allora questi tratti e anche penso immagino in base anche a questi tratti interagiranno tra di loro anche le loro scelte saranno comunque dettate appunto dalla loro personalità da questi tratti immagino esatto esatto fede hai detto proprio bene infatti i tratti che cosa sono semplicemente sono magari caratteristiche caratteriali no mettiamola così in the sim si chiamano tratti però diciamo è il carattere no il carattere che magari noi scegliamo per il sim e ovviamente che cosa fanno questi tratti vanno appunto a approfondire quindi ad arricchire i nostri sim le nostre famiglie ma anche soprattutto la loro personalità che è una cosa molto importante quando si crea un sim nel senso si deve un attimo differenziare certo e diciamo che così anche come in tutte le persone alcuni tratti sono incompatibili nel senso che se io sono buona non posso essere anche cattiva o malvagia no così proprio detto sì e quindi e via dicendo nel senso che ci sono appunto alcuni tratti che sono compatibili tra loro ma altri tratti che tra virgolette costano un pochino e quindi non possiamo per forza scegliere cioè nel senso se vogliamo fare un sim che ama la famiglia non posso mettere che odio i bambini se no insomma una famiglia solitaria fatta di cani e gatti se potrebbe ma chi può dirlo insomma e quindi questo era un po' l'intro sulle aspirazioni e i tratti questo diciamo poi passiamo a 1.2 sempre e andiamo un attimo a vedere questa selezione dei tratti perfetto allora poi ho una domanda la prof ha una domanda da fare dopo dopo che tu a noi assolutamente siete pronti sì 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 perfetto allora diciamo che i tratti da qui non li ho messi tutti perché comunque erano parecchi quindi ne ho messi solo quelli che ritenevo più opportuni da evidenziare in questa prima prima lezione allora si dividono in quattro categorie ovvero emozionale hobby stile di vita e la categoria sociale perfetto la mia domanda è la suspense si sente la suspense metto le cuffie vai mettete le cuffie questa è la suspense allora voi qual è il vostro tratto preferito nel senso se dovete fare un sim no qual è il primo tratto che mettete così proprio soggettivamente a getto gli hobby sì quello che vuoi tipo allegro qual è quello proprio no allora sicuramente la prima cosa la faccio solitamente sì uno attivo a me piace quelli attivi ok ok quindi uno sportivo ok si stanno antopollo dice instabile ale dice io creativo i miei sim maschi sono al 75% attivi perfetto perfetto no perché è interessante nel senso che comunque cioè la scelta dei tratti è caratteristica no appunto quando facciamo un sim quindi anche il primo tratto che mettiamo ci fa capire che sim vogliamo o non vogliamo fare io per esempio quando faccio delle famiglie un po' alla drama mettiamo così una volta ho fatto una sim che amava la famiglia e il suo compagno che tra virgoletto odiava i bambini i bambini cioè nel senso può permetterci il proprio drama quindi no è anche divertente mixare un po' le due conti è carino è carino vabbè ma un po' poi come avviene anche nella vita reale no cioè nel senso anche nelle grandi famiglie numerose non è che sono tutti amorevoli e carini tipo famiglia del mulino bianco cioè c'è sempre chi magari ha un carattere più forte chi magari è più socievole chi è un po' più chiuso chi è un po' più che ne so più attivo meno attivo insomma quelle so come nella vita reale d'altronde no? esatto poi relativamente è cosa è interessante io allora per il momento non l'ho provato però secondo me sarebbe interessante giocare creare con un sim o una sim non flirtante una storia d'amore ragazzi cioè ma la volete mettere c'è un sim non flirtante che si relaziona amorosamente cioè è tanta roba cioè riflettiamoci un gameplay così strutturato no? cioè quindi è per questo che spingo tanto su questa su questi tratti caratteriali qui perché comunque quando magari il gioco ci annoia un po' perché diciamolo c'è la volta ci sono quei momenti che sono un po' spenti nel senso non sappiamo cosa fare non sappiamo e magari scegliere un tratto che ci porta a strutturare un gameplay più ampio ci stimola che cosa? la creatività ed è per questo che è bello metterli anche in opposizione mettiamola così domanda ma io non ho capito una cosa hai visto quando crei il sim la faccio sempre io eh la domanda poi ti diseredo ti diseredo come preside però ok no retrocedo dalla studente esatto esatto no la questione è questa visto noi abbiamo la prima icona che è quella che appunto abbiamo detto che sono le aspirazioni giusto quella che solitamente è un pochino più grande che poi porta in automatico una specie di sottocategoria legata all'aspirazione e poi abbiamo le tre caselline che sono appunto emozionali hobby stile di vita o sociale siccome cioè se io metto non so in una casellina metto buono sì e nella seconda io metto cattivo no è appunto vanno in opposizione vanno in opposizione cosa succede non me la fa mettere o me la fa mettere a prescindere e poi il sim va in tilt no no non cioè non te la te la praticamente è come se tu non potessi selezionare tipo se metti buono non puoi selezionare malvagio quindi in sostanza verrà ovviamente poi oscurata quella cioè nel senso se anche io vado nella seconda casellina scelgo nuovamente i tratti emozionali comunque troverò dei tratti emozionali simili a quello buono magari che ne so è buono e troverò romantico disponibile sicuramente non troverò cattivo cioè quindi mi diventerà tipo scuro opaco che non è cliccabile un pochino opaco ok ok va bene ti posso promuovere già sei già pronto fede insomma 10 lode mandiamo così faccio il bacio accademico il bacio accademico ma come sei fatto questo bacio accademico non ho mai capito però vabbè mi insegneranno il bacio accademico sarà come la francese chi può dirlo torniamo seri torniamo seri torniamo alla lezione va bene andiamo alla decima slide sì ok andiamo bene ok allora punto 1.3 io l'ho intitolato naso occhi e bocca ok quindi stiamo parlando siamo passati dalla parte ovviamente quella caratteriale ecco così a cominciamo a strutturarlo sto sim no esatto ok allora ovviamente sono prendiamole come pillole di creatività mettiamola così perfetto allora cosa succede quando entriamo in modalità cassi il gioco ci propone dei delle fisionomie anche dei volti che qui non ho inserito però insomma sono sempre nella scelta dei visi di default quindi sono già preimpostati cosa vuol dire che se scegliamo un determinato tipo di naso il gioco ce lo pone già nel viso del sim o della simmina o quello che è insomma del bambino e di tutte le fasce d'età ok stessa cosa così vale per gli occhi e anche per la bocca ok cosa succede però che allora le tipologie di default che il gioco ci propone diciamo che a volte nella maggior parte delle volte non si sposano proprio bene con l'intenzione che noi abbiamo di creare quel determinato sim magari gli occhi sono più grandi io devo un attimo definirli quindi insomma bisogna un attimo lavorarci poiché secondo me se noi utilizziamo solamente quello che il gioco ci propone non impariamo a utilizzare bene anche la modellazione cioè nel senso se io voglio fare un naso a patata ok sono presenti però come faccio effettivamente a dare l'originalità che io voglio dare perché comunque quando creiamo i sim senza cc quindi senza contenuto personalizzato è anche bello insomma vedere che uno ci ha lavorato sopra nel senso che ha lavorato su quel determinato nasino su quel determinato viso e via dicendo quindi in sostanza per capire tu quello che ci consigli magari ecco come hai detto tu vogliamo fare il naso a patata mettiamo quello che magari ci dà il gioco però sulla base di quello lo cominciamo un po' a modellare come vogliamo ok ok perfetto è quello che poi faremo nella prossima lezione nel senso andare proprio a vedere come modificare la fisionomia ovviamente nei limiti che il gioco ci dà perché io avevo pensato poi se vi può andare o no di fare dei sim senza cc però di introdurvi in una lezione apposita i cc che magari io utilizzo che sono tutti esclusivamente maxi smatch assolutamente adoro e rende tanto ecco rende veramente tanto se volete anche fare dell'editing rendono tanto con poco perché io vi dirò la verità ne utilizzo due tre quindi non è che siano poi così tanti però insomma già andiamo a imparare come modellare un viso un volto poi imparare come scegliere determinate caratteristiche quindi dalle lentigini dalla forma magari anche degli occhi i denti tutto quello che ne segue e quindi è interessante per quello interessante proprio per capire come dare originalità a quello che facciamo beh carina molto carina anche la cosa magari fare una piccola parte di lezione anche appunto su quella che ormai penso che sia un qualcosa che secondo me fa parte proprio anche di The Sims e cioè il fatto di l'utilizzo di CC sia per il compro e costruisci sia per il CAS tant'è che come abbiamo visto durante la la Sims oddio lì l'evento che è stato fatto per un po' parlarci di cosa succederà è stato introdotto anche questa questa sezione dove i creatori di CC e di mod potranno inserire direttamente lì le loro creazioni e il sistema automaticamente cliccando sulla il CC che ci interessa lo caricherà in automatico all'interno del gioco senza dover fare processi di creare la cartella fai cose eccetera eccetera quindi comunque vuol dire che anche proprio i creatori di The Sims considerano il CC parte fondamentale del gioco perché evidentemente è qualcosa che tutti noi chi più chi meno utilizziamo esatto infatti io ti dirò la verità guarda allora a me piace creare sim sia con CC che senza CC ovviamente con i CC ti dà proprio un altro tipo di visione poi ci sono CC e CC nel senso ci sono come quelli che hai detto tu i Maxi Smash che comunque danno quel qualcosa in più senza snaturare del tutto comunque quella che è la la grafica comunque di The Sims e poi ci sono quelli che sono alfa 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 per cui cioè te lo rende veramente molto 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 realistico il sim capelli che se con le singole ciocche quindi insomma anche lì poi diventa diventa a libera interpretazione comunque a piacimento come uno preferisce però considerando sempre che se ovviamente creiamo qualcosa con i CC e li andiamo poi a mettere in galleria diventa poi complicato far sì che qualcuno li possa scaricare perché a meno che non si hanno gli stessi CC altrimenti saranno diciamo completamente nudi pelati e via discorrendo quello purtroppo è un po' una pecca però sì nel senso noi fondamentalmente ci focalizzeremo sulla modellazione e poi ovviamente sull'inserimento di questi CC ma giusto per vedere un po' come rende cioè come come sono diverse un po' le cose scusa rido perché leggo un messaggio di Ale che giustamente dice anche noi è vero Fede tutti senza CC infatti guarda veramente io e Ale che principalmente buildiamo e quindi comunque sì il sim lo facciamo però magari a volte lo facciamo solo per noi quando ci prende quella voglia di metterci a giocare cioè cinque minuti tempo di creare sim metterlo dentro la casa e poi fa basta praticamente sono tutti tutti dal primo capello fino all'unghia del piede tutto un CC e quindi no vabbè no ne vale la pena ne vale la pena sì 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 assolutamente ok allora quindi ecco appunto dicevamo si parte dalla base di nasi occhi e bocche per poi modellarlo sì impareremo un po' a gestire alla modellazione fondamentalmente ecco sia con che senza CC assolutamente bella bella mi piace questa cosa mi piace e sono sicuro che piace anche ai ragazzi che ci stanno seguendo a tutte le persone che ci stanno seguendo perché perché anche loro appunto utilizzano sì sì poi ovviamente ovviamente per rispetto dei creatori dei CC li citeremo metteremo i vari link perché sono veramente bravi quindi ne vale la pena di pubblicizzarli passiamo quindi all'undicesima slide slide vediamo un po' cosa esce fuori ok allora allora questo è un confronto interessante nel senso che ho voluto mettere per voi un sim creato ovviamente da me e un sim di default quindi un viso di default che troviamo appunto nella scelta dei visi di gioco mettiamola così sì allora differenze non differenze vediamo un po' cosa esce fuori in chat dubbi osservazioni quale è più realistico quale no nel senso quale insomma che cosa le prime impressioni allora vediamo innanzitutto quale vi piace di più quello con i capelli o a prescindere vabbè concentriamoci sul viso è giusto per far semplice la differenzazione mi piace di più la prima cioè quella che ha i capelli o la seconda il viso concentriamoci sulla parte del viso che sembro però dico concentriamoci sulla parte del viso a prescindere che abbia o meno i capelli quale vi ispira di più quale secondo voi è più realistica quale secondo voi è stata generata col gioco quale senza entrambe avevano i capelli immagino però Nicole magari a una delle due non si sa quale l'ha tolta vediamo allora che bella allora Charlie Brown dice quella con i capelli gli piace di più Eleonora dice bella la prima quindi insomma immagino quella con i capelli Antopolli la prima sempre quella con i capelli immagino ovvio che è la sua con i capelli dice Martina quindi insomma la maggior parte pende di più per la prima che è quella con i capelli ora svelaci qual è quella creata in automatico e quella invece no allora quella quella con i capelli ovviamente l'ho creata io l'ho modellata io e l'altro era un viso di default ok allora adesso andiamo un attimo a analizzare questa cosa nel senso che partiamo dal fatto che a mio avviso ma è un parere soggettivo quindi prendetelo con le pinze i visi di default sono molto cartonizzati no cosa vuol dire che sono anche troppo espressivi nel senso che non sembrano quasi a volte reali perché ci sono dei visi che sono un po' un po' strani no quindi i sim che creeremo anche se ci ripetisco non mettiamo tra parentesi gli daremo proprio una fisionomia realistica no nel senso che ognuno di voi cosa che che verrà fuori perché sono sicura che verrà fuori avrà una caratteristica per la creazione dei sim no nel senso io sono solita a fare i nasi a patata cioè proprio uno stampo uno stampo proprio di vita ormai che ho per la creazione dei sim però magari qualcun altro fa la bocca un po' più sottile quindi questa è una caratteristica che ci potrà essere un viso più magari un po' più tondo quindi cioè qualsiasi cosa che porterà poi all'originalità è appressata perché comunque ognuno deve avere un attimo uno stampo che questo qui verrà col tempo perché comunque cioè non è una cosa immediata nel senso che io mi sono accorta l'anno scorso che facevo i nasi a patata prima non ci facevo neanche caso quindi è un po' così una cosa a prima vista un amore a prima vista ti sei diciamo più resa conto che affacendoli gira che te rigira li facevi sempre nello stesso modo in sostanza esatto quindi impareremo proprio a vedere come cambia anche partendo da un esercizio semplice che lo faremo la prossima volta insieme anzi lo farete voi ve lo farò fare a voi che è quello di modificare un sim generato a caso o dalla galleria oppure dal gioco e vedere cosa ne esce quindi il prima e il dopo ah ok ok quindi in sostanza come lo come lo facciamo come fanno per farci vedere allora praticamente io poi l'approfondiremo meglio la prossima volta pensavo di che basta che fanno una foto al sim che gli compare no ok perfetto e poi fanno la foto il risultato finale per vedere un po' i primi passi e poi mettere tutto in archivio e poi valutare poi anche in sede in sede d'esame per essere professionali e molto molto attenti a questa cosa ok assolutamente beh mi piace mi piace questa cosa mi piace brava niki beh ovviamente non è che dovete fare tutti i look concentratevi solo sulla parte cica cicale qui che sembro la eder parisi però insomma solo sul viso poi la fisionomia insomma quello è un altro discorso però sulla parte principale che è quella del viso sulla quale appunto ci ci interessa qui ovviamente sullo styling io sulle mode vi dico la verità non sono molto affernata però 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 ci lavoro su eh vi superò con un effetto speciale proprio guarda altro che pochi d'artificio senti scusate Tattino chiedeva la capigliatura che è stata messa è un cc perché non la ricordo nel gioco allora questa capigliatura viene da vita da liceali eh vedi vedi infatti Emiliano gli ha risposto sì scusami non l'avevo visto il mio collega è sempre sul pezzo Emiliano sempre super preciso assolutamente esatto e lo metterò a tempo indeterminato quindi è mi e no allora comunque stavo dicendo fede che impareremo anche a valorizzare il tipo di capello in base al viso che faremo nel senso che alla sim di sinistra un capello corto in base appunto alla tipologia del viso non le starebbe benissimo quindi si vede diciamo meglio un capello lungo un capello colorato insomma impareremo anche un po' a mettere questa originalità insomma a tutte le nostre creazioni e niente io passerei all' sì dico peraltro mi confermi che abbiamo notato che un po' con gli aggiornamenti un po' con le nuove cose che escono quindi nuove espansioni nuovi game pack eccetera eccetera insomma o i nuovi kit hanno affinato leggermente la i capelli no prima c'era tipo il mega cioccone capito cioè che sembrava quasi proprio un non so tipo un unico blocco cioè io ad esempio prendo ecco l'immagine di questa della ragazza che ha la fascia in testa con questi capelli prima la ciocca un po' vedi una un po' leggermente dietro una che cade un po' davanti l'hanno resa più come dire un pochino anche un pochino più realistica e hanno affinato perché prima immagino avrei trovato il cioccone proprio tagliato come posso dire insomma non so se non avete capito ecco hanno migliorato molto la resa hanno migliorato molto la resa è veramente poi anche questo tipo loceo di capello devo dire che mi piace sì bello bello stati bravi stati bravi davvero decisamente 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 vero davvero e passiamo all'ultima slide sì ultima sì ultima slide ce ne sono ultima poi ci sarà l'ultima l'ultima è proprio una chicca quindi non c'è allora quindi questo è un po' il resoconto di quello di cui abbiamo parlato questa sera e appunto questa introduzione al CAS che troverete diciamo a fine di ogni lezione un piccolo riassuntino così per facilitarvi no nel senso sempre comodo comunque averlo e allora non abbiamo toccato ovviamente l'argomento delle categorie delle due categorie dei mi piace non mi piace ma perché sinceramente è una categoria comunque cioè sono delle categorie soggettive nel senso che è una cosa abbastanza intuitiva quindi non c'è molto di cui parlare quindi poi magari lo vedremo meglio quando andremo a creare i sim poi peraltro se anche non vengono selezionate in questo caso il gioco comunque ti permette di andare avanti cioè non è una cosa fondamentale come le aspirazioni o i tratti che ci debbano essere per forza così come il nome no anche la scelta del nome è importante perché insomma è un punto fondamentale per la creazione del sim altrimenti non cioè non ti permette di chiudere la creazione ecco infatti ci concentreremo anche anche su quello magari faremo una lezione extra sui vari nomi tipologie derivazioni insomma un gran bello spunto questo sì 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 assolutamente dopo vabbè vedremo comunque in casa anche il genere a caso e il genere a caso dalla galleria perché comunque metterlo in slide non rende quindi bisogna che entriamo proprio in gioco e ovviamente io spero che questa prima lezione introduttiva vi sia piaciuta e vi dico anche nell'ultima slide io ho fatto una cosa abbastanza tipo stampabile nel senso che se volete stamparla potete scrivere tutto quello che volete le domande per le prossime volte insomma è una dispensa vostra quindi potete usarla a vostro piacimento e potete fare quello che più vi aggrada quindi possiamo ricordare anche a tutti coloro che ci seguono dove possono eventualmente trovare o come possono avere eventualmente questa presentazione che tu hai fatto quindi queste slide che tu hai creato allora queste slide le passeremo e stiamo ancora valutando sì Emiliano intervieni sì tanto volevo intervenire comunque perché voglio dire una cosa vai allora questo slide per chi le vuole che riguarda la live ci contatta in privato non gliele mandiamo perfettamente anche chi magari le vuole rivedere ma chi ha già visto la live chi è qua su discord ci scrive noi le mandiamo certo e e poi volevo dire che la nostra Aleida ci ha mandato qua in chat su discord la foto del prima quando parlavamo del crea un sim con la storia della sezione in cui possiamo trovarlo quindi per chi non sapesse dov'è la troviamo lì la Lega ha un punto in più extra adesso me lo segno sì sì l'ho già aggiunto io bravo grazie grazie vedi 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 perché i ragazzi stanno attenti stanno attenti quindi davvero mi raccomando sono molto orgogliosa bravi complimenti bene 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 insomma io allora innanzitutto io farei un altro bell'applauso alla nostra Nicola alla nostra professoressa Nicola perché innanzitutto ha creato delle slide meravigliose è stata bravissima perlomeno ha avuto proprio la chiarezza nelle spiegazioni e quindi io ho compreso tutto per me che non sono molto pratico di creare il sim perché non è come ben sapete build più che altro più che creare il sim quindi abbiamo ricapitolato ieri c'è stato marco ancora prima c'è stata alessandra su su discord però poi la prossima lezione la farà qui direttamente su su twitch e domani ci sarà il professore emiliano giusto ho detto come dimmi no no domani ci sono io appunto mi ricordavo perché ho sentito questo silenzio per un attimo ho detto oddio ho detto una delle solite fregnaci mie ecco insomma e invece no vorrei fare una notazione un un nb un nota bene tra le le note allora cos'è che è anche importante il fatto che comunque allora io e emiliano lo sapete collaboriamo essendo appunto moderatori via dicendo ma la modalità del crea un sim ovviamente si collega alla modalità aiutatemi non mi viene la parola dello storytelling ecco ci sono ok ok quindi nel senso queste due materie tra virgolette questi due corsi coincideranno tanto perché comunque in base al sim che andremo a creare si strutturerà la storia e via dicendo volevo solo tenere a precisare questa cosa quindi diciamo vanno vanno di pari passo proprio perché comunque sono molto correlate poi ricordiamoci appunto che è importante seguire anche ovviamente le lezioni di Marco del professor Marco esatto quindi con storia quello è importante perché poi appunto ci sarà l'esame con il test e quindi dovrete proprio mettervi lì e rispondere ci sarà il test scritto e poi il test pratico quindi dovrete poi fare quindi cominciate a fare le prove a casa partendo già da queste prime lezioni anche a provare a costruire a provare con i sim insomma piano piano vedrete che da qui a con le sette settimane sono sicuro che diventerete dei builder bravissimi degli storyteller eccezionali degli styling meravigliosi e saprete tutto di tutto di tutto su The Sims soprattutto perché poi potrete visto che adesso è gratuito il gioco base è gratuito quindi potrete anche raccontarlo ai vostri amici farli appassionare e far crescere ovviamente questa community Tattino diceva con gli ultimi aggiornamenti hanno aggiunto anche scegliere il genere e i gusti diciamo a livello sentimentale dei sim anche quello però non è una scelta rilevante per andare avanti con la creazione del sim sì comunque diciamo che affronteremo un po' tutto nel senso che è una categoria diciamo che volevo andare ad approfondire anche insieme a voi perché comunque rispecchia un po' tutti noi come persone quindi di conseguenza anche i sim che andremo a creare però sì insomma perfetto 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 allora mi dicevi le slide sono terminate giusto sono terminate esatto ok allora io ritorno un attimo sul welcome screen academy diamo le ultime informazioni le ultime cose e poi ovviamente ci salutiamo per questa serata e ricordiamo magari ecco gli appuntamenti quindi andiamo sul welcome screen eccomi qui vedete mi sono messo in posizione tipo genio dalla lampada ti ricordi quella però tu sei giovane niki non te la doresti ricordare però adoro perché ho 80 anni dentro quindi allora ragazzi allora innanzitutto innanzitutto appunto come abbiamo detto prima ricordiamo che domani c'è la lezione con il professor Emiliano quindi daremo tutte le direttive sugli orari sempre la faremo sempre qui su twitch dell'orario appunto a cui sarà fatta questa questa live vi ricordo peraltro che il canale discord è sempre pronto ad accogliere nuovi iscritti quindi mi raccomando se non siete ancora iscritti sul canale discord fatelo tant'è ovviamente anche se non siete ancora iscritti sul canale twitch iscrivetevi ma e soprattutto vi ricordo che potete anche abbonarvi gratuitamente se siete ovviamente iscritti ad amazon prime io la butto lì così tanto per in modo che così non dovete neanche vedere la pubblicità to buttato lì ecco comunque potete rivedere ovviamente questa live anche nei prossimi giorni quindi chi si è perso le prime l'inizio della live che non poteva ovviamente essere presente potete recuperarle quindi poi ricordatevi che ci saranno gli esami quindi potrete tranquillamente fare gli esami non siete giustificati se non sapete se vi interroghiamo e non sapete capito ecco comunque io innanzitutto ringrazio la nostra professoressa Nicole gli farei un grande applauso perché è stata magnifica direi solo che magnifica grazie per aver seguito per essere stati attenti per aver fatto domande grazie mille di cuore ma noi infatti aspettiamo poi adesso sono curioso perché poi immagino che anche i ragazzi adesso c'è stata questa un po' di teoria ma vogliamo ovviamente anche poi vedere la pratica quindi siamo curiosi di vedere poi nel momento in cui andremo proprio a mettere mano a cosa esce fuori quindi siamo proprio curiosi 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 vi ricordo appunto dell'appuntamento di domani col professore Emiliano noi ci vediamo domenica alle 21 e 30 sempre qui io e la mitica la sola l'unica l'inimitabile Alessandra Ocello che mi sopporta e mi supporta soprattutto quindi saremo qui domenica chissà adesso vediamo un po' che challenge se potremmo inventare vediamo un po' che tiriamo fuori eh facciamo un po' vediamo vediamo magari potremmo fare una challenge con un sim eh Nicole invece che la solita why not esatto invece che la solita challenge esatto fatta a parte a parte no no bugia scusate no dobbiamo terminare la precedente challenge con i segni zodiacali meravigliosa quindi dobbiamo finire quella quella dobbiamo finire perché ovviamente è giusto portare mancavano un po' di segni noi li porteremo a termine li faremo assolutamente quindi ci vediamo a questo punto domenica le 21.30 sempre qui su twitch euforbia 1981 con la zodiac challenge nikki grazie ancora di cuore io mando un bacione a tutti quanti mi spiace che questa sera la challenge cioè la live è un pochino più breve un po' più corta ma insomma recupereremo promesso che recupereremo io vi mando innanzitutto un bacio grande a tutti quanti buona serata vi voglio bene ci vediamo domenica ciao 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 però questa scala c'è nel senso la casa qui sul terrario c'è un funghetto tra noi la casa il recinto davanti ricco il recinto il recinto però questa scala c'è nel senso la casa qui il terrario c'è un funghetto tra noi la casa il recinto davanti ricco il recinto ricchetto no la fizzatoio sbagliato però questa scala c'è nel senso c'è nel senso la casa qui il terrario c'è un funghetto tra noi la casa il recinto davanti ricco il recinto ricchetto c'è un funghetto c'è un funghetto c'è un funghetto il terrario c'è un funghetto tra noi la casa il terrario c'è un funghetto tra la la due funghetti tra la la il recinto davanti ricco il recinto ricchetto però questa scala c'è nel senso la casa qui il terrario c'è un funghetto tra noi la casa il recinto davanti ricco il recinto ricchetto no la fizzatoio sbagliato grazie però questa scala c'è nel senso la casa qui il terrario c'è un funghetto tra noi la casa il recinto davanti ricco il recinto ricchetto no la fizzatoio sbagliato sbagliato